Putin ha il cancro alla tiroide? Putin ha un tumore alla tiroide? È la domanda che molti si stanno facendo in queste ore di tempo, perché sul web è spuntata di recente questa informazione, un'informazione che secondo me va a levare la sua privacy. Bene, si era parlato di un cancro alla tiroide, un quotidiano russo aveva parlato di un tumore, ma dal Cremlino tutto è stato negato. Il Cremlino, la Russia smentisce categoricamente che Vladimir Putin abbia un cancro alla tiroide. No, non ce l'ha. Quindi tutte quelle persone che pensano che Putin abbia un cancro, un tumore alla tiroide, sappiate che non è così, perché il Cremlino lo smentisce tutto e lo fa pubblicamente, tranquillamente e serenamente. Bene, questo dunque è quanto, vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, primo aprile 2022, sembra essere un pesce d'aprile, no? Vi si è considerata la data di oggi, quindi ripeto, no, non ha un tumore alla tiroide, non ha ancora la tiroide. D'Aleandro, un narratore italiano è tutto, un saluto a tutti voi, al prossimo video, grazie a tutti.